Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Partiamo con l'immagine da satellite che ci mostra l'Italia in un contesto anticiclonico, quindi cielo sereno, soprattutto sulle isole maggiori, sui versanti ionici, mentre sul basso versante terrenico insistono delle nuvole basse con anche qualche banco di nebbia sulle coste adriatiche. Al nord il contesto resta più uggioso, specie in pianura con una distesa di nuvole basse che insistono su gran parte della Valpadana, ma sull'arco alpino il contesto per il momento è soleggiato, anche se giungerà verso sera una perturbazione atlantica, una debole perturbazione che tra giovedì e venerdì attraverserà il nord portando qualche pioggia. Infatti nel dettaglio la giornata di giovedì sarà abbastanza instabile sulle regioni settentrionali con fenomeni piuttosto deboli, a tratti anche moderati sul Levante Ligure e sull'Alta Toscana, che comunque interesseranno buona parte delle regioni settentrionali anche nella giornata di venerdì, specie il nord-est e anche l'Alta Toscana. La situazione poi nel corso del nuovo anno, quindi tra San Silvestro e Capodanno, vedrà una nuova rimonta di questo campo anticiclonico che di fatto continuerà a insistere sull'estremo sud nei prossimi giorni, ma che si allungherà anche sul nord Italia, tra Capodanno e San Silvestro, con temperature che saranno ben al di sopra delle medie, quindi ancora una volta punte superiori ai 20 gradi sulle isole maggiori, valori termici piuttosto elevati anche sull'arco alpino, sull'Appennino, ma al nord ci saranno infiltrazioni umide che comunque continueranno a disturbare il tempo, quindi ci sarà l'occasione anche per qualche pioggia possibile sul Levante Ligure, a tratti anche sulla Toscana e la Lombardia, quindi qui il contesto sarà un po' più nuvoloso, ma per maggiori dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trabi Meteo.